Il processo di pace in Medio Oriente è stato al centro dell'udienza tra Papa Francesco e il Presidente dello Stato di Palestina, Mohamed Abbas. Secondo quanto riferisce la Sala Stampa Vaticana, è stata espressa la speranza che si possano riprendere i negoziati diretti tra le parti per giungere alla fine della violenza che causa inaccettabili sofferenze alle popolazioni civili e a una soluzione giusta e duratura. A tale scopo si è auspicato che con il sostegno della comunità internazionale si intraprendano misure che favoriscano la reciproca fiducia e contribuiscano a creare un clima che permetta di prendere decisioni coraggiose in favore della pace. Nel corso dei cordiali colloqui inoltre si sono rilevati i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Palestina suggellati dall'Accordo Globale del 2015 che riguarda aspetti essenziali della vita e dell'attività della Chiesa nella società palestinese.